Ogni promessa si dice un debito. Voi avete lavorato con una corsa contro il tempo, tra l'altro anche contro il mal tempo, per trasferire tutti gli uffici da Via Lende alla Badia. Adesso, stamattina, è realtà. Gli studenti della Mario Rapisardi sono a lezione di mattina. Ci siamo posti di questo obiettivo, risolvere la situazione grave dei ragazzi che svolgevano il doppio turno, tra l'altro nella stagione invernale. E quindi abbiamo voluto fortemente sollevare questo problema che affliggeva i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti. E quindi, dopo una prima fase in cui abbiamo cercato di capire come risolvere e trovare nell'ambito delle strutture comunali dove poter garantire il servizio didattico, abbiamo individuato l'edificio della Via Lende che, come sapete, era occupato da importantissimi e delicati uffici, quale l'anagrafe, lo Stato civile, il SUAP, eccetera, eccetera. Abbiamo individuato dove poter allocare questi uffici nei locali della Badia. Tutti sapete che è ancora in corso, perché per cinque anni, un obbligo di destinazione d'uso. E quindi, prima di poter procedere a questo trasferimento e ad abusare sia della struttura per una destinazione d'uso non consono, abbiamo chiesto agli assessorati regionali delle infrastrutture e della programmazione di poter congelare questi cinque anni in cui vi è l'obbligo di questa particolare destinazione d'uso. L'assessorati, quindi con i tempi tecnici, immaginate, che ci sono dovuti e ci hanno dato questa possibilità, e quindi abbiamo trasferito gli uffici nella sede della Badia. Già ad oggi sono operativi. È una sistemazione temporanea anche quella, però abbiamo anche l'auspicio che in questo tempo, in cui gli uffici saranno lì, potrà essere occasione per molta parte della cittadinanza di poter godere di questa parte dell'edificio e quindi anche poter usufruire del centro storico. Per quanto riguarda la struttura di Via Iene, finalmente riesce a suonare una campanella, perché la struttura è stata progettata e costruita per scuola, e quindi finalmente siamo riuscite a...